Siete e mezza, siete e mezza. Siete e mezza? Non c'è, non c'è, non c'è. Ma perché non mi avete cipolliata? Mi ha le otto, devo andare alla donata. Dove devo andare? Alla donata, al partito. Ah, sì, al partito. Io sono caponucleo, per lo sapete, ma guardate. Caponucleo. Non abbiate pazienza, dottore, scusate tanto, ma vado a mettere in divisa, vengo su qui. Indivisa? Vi volevo mettere in divisa. In divisa? Vado a mettere in divisa. Voi dovete scendere. Scendiamo assieme, capite? No, no, no. Indivisa, non è il caso, è vero. Vado a partito senza la divisa. Ma che voglio? Sì, no, capisco, ma vi vedo un pochino stordito. Perché non vi riposate l'altro? Non ci ha riposate? Adonate, io parlo io stasera, faccio un discorso. Ah, ma vuoi un discorso? Ah, già fai io un discorso. Aspettate un momento, ma metti in orbace, ecco subito e scendiamo assieme. No, 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 no. Capite? Capite? Quello vuole scendere per Napoli in divisa. Bisogna il venire a qualunque posto. Ma naturalmente. Signora, è uscito il padrone? No, non è uscito. Si sta avessendo, perché? Come perché? Devo fare la camera per l'americano, no? È vero! Io ho affittato la camera a un americano, un aleato. Soltato l'aleato? Sì. Carità, non lo deve vedere. Se vede il soltato l'aleato, qua è finito. Ma come si fa? Quello tutte le sere viene qui, si ottiene il pallone. Eh beh, si cerca di non farlo entrare qua stasera. Ma io posso sentire qui. Se vede il soltato l'aleato? Sì. Ma bellissima loro, lo scendoro. Vengo subito, vengo subito. Tu hai uscito l'ultima. Tutti l'armadio, caro. Tutti l'armadio. L'armadio. L'ho messato tutti i cassetti. Tutti i cassetti l'ho messato tutto il mondo. Questa, domani, era essa. Ah, ah, ah. Non dovete mettere le mani nei miei cassetti. Ho trovato la mia divisa tutta ciancicata. Ha fatto una mappa della cittata dell'armadio. Ma che vogliamo scartare? Ma capisci, guardate, guardate... Dopo io vado, mi raccomando, il franzo... Stasera la bistecca, la bismar, chiamocelo. No, no! Com'è, andiamoci a mandare. Mi potete venire con me? Ma vi prego! Mi vado a pregare, non capisco. Ma dovete scendere, scendete con me, non capisco. Va bene, ma non versare sotto braccio. Quando mai siamo andati sotto braccio? Sotto braccio, sono onorato di portare un camerato... No, che camerato! Ecco, un fascista! Io lo devo dire ad altra voce, questa cosa mi amore. Adesso io l'ai curato. E' un fascista! E' un fascista! Perché non fa un pezzo di fredino per rinno! Perché non è un pezzo di fredino per rinno! Ma chi è? Faccio a tunne... E' un fascista! Ho ho ho! Look at that! Beh, ma bezzo di fredino per rinno! O che del bambini è bezzo di fredino per rinno! Ma chi è? Faccio a tunne! Ma chi è? Un soldato a rinno! Un soldato a me? Un soldato a me? E questo è un amico nostro, questo è alleato con l'Ighiinterno. Quanto vogliamo scherzare? Mi togliervi andare fuori di qui, vai! Ma questa è una telefonata! Ma questa è un amico lato! Cavalier, voi non potete telefonare! Perché non posso telefonare? Cavalier, non potete telefonare! Perché non posso telefonare? Perché non potete telefonare, perché? Perché noi abbiamo perduto la guerra! No! Abbiamo perduto la guerra! No! Avete dormito per quattro anni! No! Voi siete svegliati un'ora fa? No, perché non mi avete svegliato prima? Perché? Abbiamo perduto la guerra! Legge, legge! Ti andate! No, no, no! Mamma mia! Abbiamo perduto la guerra! No, no! Ah, perciò stavo a questa... No, no! No, no! No, no! Eh, che fa? Eh, che fate? Cavalier, che fa? No, no! Mi addormento un'altra volta! Mi svegliato quando se ne saranno andati questi! Buonanotte! 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 Buonanotte!